Noi siamo onorati di essere qua, ma anche voi siete onorati di essere qui. E' una specie di abbraccio, questa sala. Non ho mai sentito tanti occhi su tutte queste direzioni, proprio non so letticare, e comunque non so bene di quali legni siano fatti, ma veramente... Le onde si spandono meravigliosamente qui. Siamo proprio in un luogo toccato dalla grazia. E' veramente un onore essere qui a Cremona questa sera, con questi musicisti meravigliosi, con il mio amico incredibile Mario Stefano Pietro d'Archi. Grazie. In questo tempio di violino, che è Cremona, che per me è veramente la prima volta, sono molto emozionato. Grazie. 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 Grazie.